Allora, ci siamo, ultimo video, forse della playlist, chissà, secondo te sarà l'ultimo video della playlist? Sì, abbondantemente. Secondo te gli altri non fanno video coglioni, no, sono morti. E oggi no, sti cazzi, oggi vado in giro, vado a mettere la cintura. Vabbè, ma mica te lo inquadrò, adesso te lo sto inquadrando. Fra 15 minuti il padrone di casa polacca ci sbatte fuori a calci in culo, vi parlo, io torno, lascio i bagagli perché vado a fare il turista oggi. Abbiamo finita, è finita la GDC, ci siamo già scambiati i patti di sangue l'anno prossimo, ma pure andiamo alla Nordic. Sempre con i vostri soldi. Eh certo, sì. E niente, è stato bello come al solito, divertente, spero che siano piaciuti i video che abbiamo fatto. Non finisce comunque qua con i video perché abbiamo preparato un tanto io mi gratto l'orecchio, chissà, mi tolgo il cerume. Abbiamo preparato, e poi dopo essermi tolto il cerume mi sistemo i capelli, ottimo. Dicevo, abbiamo preparato dei video un po' più elaborati, particolari, con la videocamera figa al microfono che, tornato a casa, monterò e pubblicherò nel corso della prossima settimana. Quindi in realtà i nostri video sulla GDC non sono finiti. Ne abbiamo alla fine fatti meno dell'anno scorso, ma anche perché il cazzeggio del weekend ci ha offerto meno spunti e anche perché io sono morto per un giorno e mezzo. Però tutto sommato mi sembra che abbiamo fatto un sacco di cose sfiziose e abbiamo, come promesso, pubblicato pure più di un articolo al giorno. Altri ne arriveranno, no, ci sono embarghi che scadono la prossima settimana, siamo quasi come un sito vero che pubblica le anteprime quando scadono gli embargo, embarghi, embargus. E niente, è finita anche stavolta, sono un po' triste, ma meno del solito perché mi spiace andarmene, mi spiace che è finita la fiera, è sempre bella la fiera, che peccato è finita la fiera, ma porca puttana quanto cazzo mi è pesata questa settimana sul fisico. Voglio tornare a casa da mia figlia e da mia moglie, che oltretutto mi sono appena reso conto che non si ricordava l'aeroporto a cui arrivavo e quindi non ci sarà lì. No, beh, sicuramente si è dimenticata chi sono, ma l'aveva programmato perché l'incontro all'aeroporto con lei e mia figlia che tornavano da Milano, però è nell'aeroporto sbagliato e quindi ci vediamo a casa. Niente Mario Merolata all'aeroporto. E niente, vabbè, stiamo finendo di buttare roba nella spazzatura qua. Gli stivali. Gli stivali si buttano nella spazzatura, vabbè, a che livello siamo? Niente, è stato divertente, abbiamo pure fatto il video che ha fatto innamorare il mondo, 200.000 visualizzazioni che poi non sono un cazzo, però per noi sono tipo svariate cifre più del solito, non che cambierà qualcosa. Basta, è stato bello, spero sia stato piacevole anche per voi e continuate a seguirci, insomma, le solite cazzate. Ciao!